Il Lecce prepara la nuova stagione, ancora un campionato in Lega Pro, ancora un'avventura in giallorosso, la terza per Mr. Franco Lerda, fresco di riduzione della squalifica per la bestemmia a Frosinone. È diventata qualcosa di speciale per me questa sfida e quindi quest'anno avremo anche quella motivazione in più, insomma, via. Se lo sono detto ritrovandosi nelle scorse ore con quei ragazzi che conosce e che sono diventati un gruppo coeso, valore aggiunto e motivo d'orgoglio, dice. Dobbiamo ripartire meglio e più forte di prima perché in tutti noi, in tutti i ragazzi c'è gran voglia di ripartire, c'è gran voglia di arrivare a quello che ci siamo prefissati. La preparazione della nuova scalata ritorno in B, sfumato quest'anno per un soffio dopo un campionato da ricordare, è iniziata qui a Via del Mare col primo allenamento, poi sabato la partenza per il ritiro di Saint-Ven-Saint. Nella località Valdostana, oscillazioni del mercato permettendo, saranno in 25-22 giocatori e tre portieri, anche il neoacquisto Luigi Della Rocca. È già un team con cui si può lavorare bene ma urge un rinforzo davanti e in esterno almeno due, venendo meno probabilmente Barraco e Bellazzini. Quanto al modulo, Lerda non lo adeguerà alle esigenze caratteristiche dei singoli, ma dovrà essere il contrario. Per me c'è un modulo solo, quello del Lecce. Il mister cambia modulo se funziona meglio, ma quello che conta è il risultato finale. Il risultato finale passa dalla squadra.